Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane. È un piacere insomma avere rappresentanza di Odoo SA, questo vuol dire che la nostra associazione fa un buon lavoro, soprattutto dal punto di vista di sinergia così come ho detto all'inizio, perché è fondamentale. Agli experience Fabien diceva, I love community, a Odoo Italia diciamo I love you, è reciproca il sentimento. Non mi resta che augurarvi buon lavoro, dice il Gobbo, gira slide, a voi. Buonasera a tutti intanto, immagino mi sentiate bene. Come sempre vorrei cominciare con dei ringraziamenti dovuti all'Associazione Odoo Italia per averci ospitato ed invitato, oltre che all'organizzazione impeccabile. Quindi complimenti veramente a tutto il direttivo, il presidente Andrea Cometa, spero di conoscere il resto subito dopo. Oggi, come potete vedere dalla prima slide di presentazione, volevamo discostarci un po' dall'ambito tecnico e andare ad affrontare quello che per noi è un argomento molto importante, che è la digitalizzazione in Italia e quelle che sono le sue opportunità. Passiamo alle presentazioni. Il mio nome è Marco, faccio parte di Odoo, e nello specifico mi occupo di gestire un team di persone, di partner manager, che aiutano i partner a crescere nella loro evoluzione in Odoo. Oggi sono in compagnia della mia amica e collega Alessia Frasson. Eccoci. Io invece mi occupo del recruiting iniziale dei partner. Qualcuno di voi forse mi conosce, per gli altri sono veramente felice di essere qui e vi ringrazio per averci invitato. E quindi io e in Odoo mi occupo del... sono il primo punto di incontro per capire gli obiettivi dei partner e cominciare una collaborazione. Visto che dovrete sopportarci per 30 minuti, conosciamoci un pochino meglio, ok? Ma vediamo lì a destra Marco con una chitarra in mano e una folla dietro. Ma cosa stavi combinando? Intanto Alessia, grazie per aver definito tre persone la folla, ma effettivamente era quello che facevo dieci anni fa. Io sono grande appassionato di musica. Ho cominciato suonando la chitarra. Dalla chitarra sono passato al mondo degli arpi. Quello era il numero di persone che quel giorno ci stavano ad ascoltare con il mio gruppo. Quindi per chiunque fosse appassionato di musica, spero di condividere con voi questa passione successivamente. Alessia, piuttosto, forse la tua foto è molto più interessante. Cosa stai facendo abbracciando un ghiacciolo? In questa foto sono in Islanda, semplicemente mi piace molto la fotografia e il viaggio, quindi quando posso cerco di andare in giro per il mondo. Bene, quindi abbiamo visto il retroscena oltre a Odu. Ora parliamo degli obiettivi di questa presentazione. Quindi, il primo obiettivo innanzitutto è di capire lo stato della digitalizzazione in Italia, quindi cosa è successo fino ad ora, come è stata la crescita e dove stiamo andando. Poi, il secondo punto che andremo ad affrontare sarà individuare le opportunità derivanti dall'esigenza di digitalizzazione, quindi da questa richiesta, da questa mancanza, crediamo che ci sia un'opportunità per tutti. E infine parleremo delle soluzioni in cui crediamo. Andiamo avanti, quindi, con l'agenda di oggi. Primo punto, prima di tutto faremo un overview, quindi, sulla digitalizzazione e Marco ci parlerà della situazione attuale, quali sono anche i dati della digitalizzazione al giorno d'oggi. Parleremo poi della strategia di Odu e l'impatto che vogliamo dare, qual è la nostra missione e dove vogliamo arrivare. E poi parleremo della collaborazione con i partner, perché il fulcro di tutto questo è la collaborazione in tutto l'ecosistema. Quindi do la parola a Marco e parliamo della digitalizzazione. Perfetto, grazie Alessia. Dunque, passiamo immediatamente al sodo, mettiamo le mani in pasta all'argomento. Dunque, per prima cosa, giusto per darvi una situazione generale di come vorrei impostare questa prima parte della talk, e abbiamo voluto condividere con Alessia e con voi due aspetti principali dell'evoluzione della digitalizzazione in Italia in questo momento. I due punti cardine da differenziare sono appunto la digitalizzazione di base e la digitalizzazione avanzata. La digitalizzazione di base al momento in Italia è quella che effettivamente, secondo gli ambiti e i termini europei, è basata su degli obiettivi che definiscono la digitalizzazione e la misurano in base a diversi stati membri. In questo momento a livello di digitalizzazione di base, e ora vi spiego cosa significa questo aspetto, magari qualcuno di voi già sarà al corrente di questo, in Italia è raggiunta da circa il 70% delle PMI. E appunto, come vedete dalla slide, sono rispettati almeno 4 dei 12 obiettivi di digitalizzazione. Cosa significa? Che di base, molte aziende, molte PMI, hanno accesso a internet in manda larga, con velocità possibilmente almeno uguale o superiore a 30 megabit al secondo, che utilizzano riunioni online, e che almeno il 50% degli addetti sia connesso a internet. Questa è digitalizzazione di base. Dall'altro lato abbiamo invece l'altro termine di paragone, che è la digitalizzazione avanzata, alla quale chiaramente non arrivano ancora tutte le aziende. Magari fossero in molte, la maggior parte delle aziende digitalizzate in maniera avanzata sono corporation, quindi quelle che noi definiamo più di 50 dipendenti sostanzialmente, e si concretizza poi nell'utilizzo di ERP, e-commerce e intelligenza artificiale. Benissimo. Dunque, il divario è molto alto tra PMI e corporation, ma comunque nell'utilizzo dei software gestionali. Tuttavia, sebbene il divario sia molto grande, dobbiamo considerare anche le grandi opportunità. Per questo abbiamo scelto la GIF di Bill Gates, che esulta, perché da grandi mancanze derivano grandi opportunità che noi possiamo sfruttare tutti quanti insieme. Andiamo a vedere... Andiamo al sodo, perfetto. Prima di ciò andiamo a vedere intanto in cosa l'Italia è realmente brava. Quindi fatevi un applauso, e facciamo un applauso anche a tutte le aziende in Italia, perché in generale siamo sopra la media europea in alcuni punti che sono appunto i tre presentati. ossia, nella ricerca della tecnologia, le aziende italiane fanno molta attenzione all'impatto ambientale, al consumo di carta e al consumo di energia, quindi anche al riciclaggio dell'energia. Nello specifico la media europea si assesta intorno al 48%, in alcune siamo veramente al di sopra, nel consumo di energia leggermente di più, ma comunque è davvero un dato che ci può far ben sperare. Allo stesso tempo andiamo un po' più approfonditamente invece in quello che è l'utilizzo dei software gestionali più diffusi e a capire il grado di utilizzo. Dunque, abbiamo... Dato che comunque l'Italia si configura come un paese particolarmente burocratico, attento anche a determinati cavilli legali, il primo software di utilizzo comune nelle aziende che riscontriamo nella maggioranza è il DMS, il Document Management System. Circa il 70% dell'azienda in totale lo utilizza. Giusto per darvi un'idea, il campione utilizzato è di circa 280.000 aziende, quindi un campione abbastanza ampio per poter fare questo tipo di ragionamenti. SCM, quindi il Supply Chain Management, utilizzato da circa il 50% delle aziende e ovviamente i software di contabilità. Parliamo di software single solution, molto diffusi. Andiamo a vedere invece chi è all'ultimo posto come software di questa classifica. Ok, perfetto. All'ultimo posto invece abbiamo CRM, MES e IRP. Per IRP intendiamo appunto il sistema gestionale che possa gestire i flussi dall'A alla Z, quindi tutti i processi aziendali presenti. Come CRM vediamo che un terzo delle aziende lo utilizza, MES stessa cosa, se andiamo sull'IRP vediamo invece soltanto un'azienda su cinque utilizza un IRP per gestire i propri processi aziendali. Più però che dare esclusivamente dei numeri, con Alessia ci siamo interrogati e siamo andati a cercare il perché di questi numeri. Allora, abbiamo trovato che effettivamente per quanto riguarda il CRM, le aziende non ritengono utile avere un CRM fin dalle prime fasi di attività, ma soltanto quando cominciano ad avere effettivamente una client base nutrita di clienti e preferiscono non adottare niente finché comunque possono gestire via mail o su Excel i vari dati derivanti da lead o prospect o comunque clienti. Lato MES invece ci siamo interrogati del perché, nonostante l'Italia sia piena di PMI in ambito produttivo, logistico e quant'altro, ci sia un utilizzo relativamente basso. Abbiamo scoperto che si tratta chiaramente del fatto che il MES in generale è complesso da automatizzare e ha bisogno di collegamento con vari sensori, dunque ha bisogno di specificità e capacità per poterlo implementare all'interno delle aziende. I RP chiaramente per quanto riguarda il terzo invece le aziende hanno bisogno di comprendere a fondo i propri flussi aziendali e i propri processi. Dunque da questi numeri cosa emerge? Che non soltanto non vengono utilizzati abbastanza, ma anche che alla base c'è un problema di uno è mancanza di investimenti in formazione nelle aziende per formare e formare anche dei team che possano supportarli nella trasformazione digitale e c'è anche una mancanza di specialisti ICT che altrettanto, anche se non sono parte integrante dell'organico aziendale, li possano supportare in questa trasformazione digitale. La prima parte è quello che sostanzialmente facciamo noi in Odoo e che fa anche la community, quindi cercare di educare i clienti e le aziende nell'investimento in formazione ICT per aiutarle in questa transizione. La mancanza di specialisti ICT per noi invece può essere assolutamente colmata anche attraverso la nostra rete di partner che possono sopperire per noi a questa mancanza. Quindi questo ora fa parte anche un po' della nostra visione ed è quello che vi andrà a spiegare Alessia. Prendo la palla continuando il discorso sulla formazione degli specialisti e questo vuol dire collaborazione, quindi creare sinergie e collaborazioni tra Odoo e altri specialisti in Italia e in tutto il mondo. Quindi in che modo Odoo vuole avere un impatto positivo sulla digitalizzazione? Come ha detto Marco c'è stata una crescita forte sulla digitalizzazione e Odoo vuole portarla in avanti. Partiamo innanzitutto con la missione di Odoo, che può sembrare una mission impossible ma ci stiamo riuscendo passo dopo passo ad arrivare a un miglioramento della digitalizzazione in Italia. E qual è la missione iniziale? Dal primo giorno in cui è nata Odoo la missione è quella di aiutare le aziende a crescere e di dare a tutti i collaboratori, a tutti i dipendenti una soluzione più efficace, più efficiente per gestire i processi aziendali. Proprio per avere un impatto sulla digitalizzazione, Odoo è cresciuto nel tempo e al giorno d'oggi abbiamo una crescita più del 60% annuale. Questo vuol dire che siamo arrivati a essere 2800 collaboratori impiegati a livello mondiale e questa crescita a livello globale ovviamente è molto importante che sia presente anche a livello locale in ogni paese. Per supportare questa crescita le collaborazioni in tutto il mondo e anche in Italia sono essenziali. Al giorno d'oggi abbiamo più di 4000 partner ufficiali sparsi nel mondo e le applicazioni che sono state sviluppate da Odoo Casa Madre sono 80 versus quelle della community che sono 30.000. Quindi questo per dire quanto sono importanti le applicazioni, i moduli sviluppati invece dalla community e quanto sono importanti le sinergie tra Odoo Community e Odoo Casa Madre. Andiamo avanti considerando due prospettive molto importanti per Odoo. Una è il punto di vista dei clienti e l'altro il punto di vista dei partner. Per capire quello che serve ai clienti e per riuscire a dare una soluzione giusta è importante capire quali sono i bisogni del cliente. Innanzitutto, proprio perché io mi interfaccio molto con partner e anche con i clienti, abbiamo capito che è molto importante avere una soluzione che migliori i processi aziendali e li renda più rapidi ed efficaci. È anche molto importante qualcosa che permetta di dare un overview generale rispetto all'azienda per riuscire a prendere scelte più velocemente con dei dati essenziali. Andiamo avanti con quelle due prospettive di cui abbiamo parlato. Quindi Customer Centric è il centro del nostro ecosistema e il cliente ha bisogno di una soluzione integrata. Una soluzione integrata dove tutti i processi sono gestiti e anche scalabile che possa seguire nel tempo i cambiamenti aziendali, la crescita e l'espansione per esempio e che possa anche essere utilizzato in modo intuitivo. Dall'altra parte vediamo i partner invece. I partner sono collaboratori specialisti, proprio quegli specialisti di cui Marco ha parlato prima, che agiscono all'interno dell'ecosistema per dare conoscenza specifica, per costruire dei verticali di settore, per avere delle conoscenze sul territorio e quindi riuscire a capire veramente quello di cui c'è bisogno in un territorio e dare consulenza specifica. Odoo infatti è un software orizzontale, non è lo scopo di Odoo essere verticale in moltiplici settori, e lo scopo è quello di avere una rete di collaborazioni e aiutarsi uno con l'altro. Quindi Marco, continuiamo a parlare di ecosistema. Dunque grazie Alessia, tutto ciò di cui Alessia vi ha appena parlato è traducibile in questa slide, l'ecosistema di Odoo. Al centro non c'è Odoo, al centro in realtà ci sono i nostri clienti, nostri, vostri clienti chiaramente, che sono il cuore, quello su cui vogliamo migliorare la vita aziendale, attraverso la consulenza adatta, un software che li possa aiutare nel day to day, e con le specializzazioni corrette. Attorno al cliente si sviluppa il nostro ecosistema appunto, e Odoo da un lato, che dà una visione, una strategia, una direzione, i nostri partner che riescono a dare i servizi e le specializzazioni adatte per aiutare i clienti in questa trasformazione digitale, e la community che da sempre, con feedback costruttivi, col dialogo, siamo sempre riusciti nel mantenere un dialogo nel tempo. Oggi più che mai è arrivato questo momento di consolidare questi aspetti e poterli portare a livello successivo. Perché? Anche perché quest'anno è un anno molto importante per noi, per Odoo, ma per tutto l'ecosistema, come sapete Odoo apre un ufficio in Italia a Milano. Ormai è fatto, non si può tornare indietro, per cui mi spiace, ma questa è la situazione. Esatto. Ma aprire un ufficio in Italia cosa significa? Per noi è non soltanto strategia, business, aziendale, no. Qua si tratta realmente di avvicinarci realmente a quelle che sono le... Non mi piace definire le problematiche. Ecco, no, le criticità, le sfide, le specificità di un territorio, di un paese come l'Italia appunto. Dunque, in cosa si traduce l'apertura di un ufficio a Milano? Nella presenza territoriale, che a catena genera tutta una serie di elementi che sono presi in considerazione nel momento in cui arriveremo nel territorio. Uno, focus sulle esigenze del mercato. Abbiamo parlato spesso negli ultimi anni, tanti anni, di localizzazione. Sebbene a piccoli passi finalmente abbiamo già costituito un primo dialogo, stiamo andando avanti, dalla versione 15 abbiamo introdotto la fatturazione elettronica, nella 16 la stiamo migliorando, la vogliamo migliorare anche grazie al vostro aiuto, senza mai continuare a prendere in considerazione anche quello che è stato fatto nel tempo dalla community. Questo è molto importante e che porterà chiaramente a quella transizione digitale in cui crediamo e di cui l'Italia ha realmente bisogno. E la consulenza locale. Perché no, un giorno i nostri partner manager, i nostri advisor, i nostri consulenti potranno accompagnare i clienti, i partner nella visita ai clienti, essere fianco a fianco in questa transizione. E questo è un po' l'idea, l'obiettivo che vorremmo, la vision che abbiamo insieme. Tutto questo chiaramente si tradurrà in una sola parola che è una collaborazione realmente più forte e più presente nel territorio. Questo è un qualcosa che non avverrà da oggi al domani, ma siccome ci piacciono le sfide è un qualcosa che siamo convinti che a un certo punto arriverà a compimento. Per la collaborazione, chi meglio di Alessia può parlarvi della collaborazione con i partner? Ultimo punto della nostra presentazione infatti è la collaborazione con i partner. Proprio come ha detto Marco, da soli non si va molto lontano, c'è bisogno di un ecosistema in cui ognuno collabora con l'altro per riuscire a crescere, per portare la digitalizzazione in Italia a un livello successivo. Cominciamo guardando dei dati riguardo ai progetti implementati dai partner. Questi sono i dati, non chiaramente, saranno i dati su cui ci basiamo per darvi queste informazioni. Vediamo che i progetti implementati dai partner dal 2019 al 2022 sono cresciuti enormemente e questo è il calcolo a livello globale, quindi vediamo un 132%. Se poi facciamo un focus in Italia, i progetti implementati dai partner sono cresciuti enormemente, sono cresciuti dell'880% in questi anni. Questo cosa vuol dire? Che il mercato italiano richiede fortemente questo tipo di soluzioni e richiede fortemente un supporto locale, degli specialisti che si formano, che diventano consulenti di zona, del territorio e riescono a capire bene i bisogni del cliente per riuscire a soddisfarli. Per darvi poi un'idea di com'è la situazione al giorno d'oggi delle collaborazioni tra Odoo e i partner italiani stanno crescendo e siamo 91, ci sono 91 partner in Italia di vari livelli di partnership in tutta Italia e lo scopo è essere presenti a livello locale in tutte le regioni proprio per riuscire a dare una soluzione a più clienti, raggiungere più clienti. Ma cosa vuol dire essere partner Odoo? Innanzitutto la base della collaborazione è fatta di uno scambio reciproco, un aiuto reciproco e quindi è molto importante per noi essere in stretta comunicazione con ogni partner per affiancare nella crescita. Ad esempio dall'inizio della collaborazione c'è sempre un supporto commerciale per capire gli obiettivi del partner, dove si vuole arrivare insieme, che tipo di settori e riuscire a trovare la direzione giusta per ognuno. C'è anche un supporto funzionale tecnico e anche formazione, semplicemente bisogna capire quello che ogni azienda vuole raggiungere e riuscire a raggiungerlo insieme. Un punto molto forte per noi è una guida, un cavallo di battaglia di Odoo è l'implementation methodology. L'implementation methodology è semplicemente una guida che ci accompagna da molti anni e che ha anche permesso Odoo di crescere così fortemente ogni anno ed è una guida che condividiamo con i partner. È un modo di fare l'implementazione che è semplicemente un modo che abbiamo trovato più efficace ed efficiente per implementare Odoo per i clienti. Finiamo con la summa di tutto e innanzitutto abbiamo parlato di digitalizzazione. Abbiamo fatto un overview di quella che è la situazione attuale in Italia e abbiamo capito quanto è importante per molte aziende italiane avere un supporto, avere degli specialisti nel territorio per riuscire ad avere una gestione delle proprie aziende più efficaci. Quindi lo scopo di questa nostra presentazione è trovare una collaborazione insieme e riuscire a portare la digitalizzazione in Italia a una crescita a livello superiore. Finito. Benissimo, di corsa il tempo mi dà un'ansia questa cosa. Allora, intanto, quando vi ho invitati ufficialmente all'avvenire agli Odoo Days, gli headquarters come hanno risposto? Positivamente? Ma serve l'Italia? Come vedete quest'anno siamo in tre. No, poi per lui ci saranno le domande più scomode. Ancora deve arrivare il suo momento. No, sicuramente, allora noi siamo i primi internamente non appena abbiamo saputo le date degli Odoo Days a voler essere presenti. Uno per poterci conoscere anno dopo anno. La community cresce. Noi cresciamo altrettanto e vogliamo mantenere questo rapporto diretto, non essere, al di là dell'apertura dell'ufficio in Italia, non essere Odoo in Belgio e tutto il resto dislocato. Quindi, come dicevo prima, non erano parole di circostanza. È veramente un piacere finalmente potervi conoscere tutti dal vivo. Grazie. Allora, veniamo con le domande serie, perché la mia era un po' faziosa. Novità per documentazione ufficiale in italiano? Allora, posso rispondere in maniera in realtà abbastanza veloce in questo. La documentazione ufficiale è un qualcosa su cui noi lavoriamo giornalmente. Essendo spirito open source non c'è nessuno che è realmente pagato per farla. Internamente contribuiamo un po' tutti, anche io, Alessia, nel trasferire la knowledge della documentazione su quello che è il prodotto. Ovviamente, come potete immaginare, c'è un'incongruenza tra quanto il prodotto va veloce e quanta documentazione in italiano possiamo scrivere. Quindi, comunque, per quanto noi vogliamo mantenere un livello accettabile di documentazione, non sarà mai troppo approfondita, se questa è la domanda. Però è un qualcosa su cui non ci fermiamo e che continuiamo nel tempo su cui contribuiamo tutti quanti. Poi ci chiedono, quante persone ho tu nella nuova sede italiana? Parentesi, la sede italiana sarà qui a Milano. Non sappiamo ancora la via. Il numero civico? Allora, se ve la dico... Giusto per sapere dove andare a cittadinare. Allora, la zona è Certosa, via Montefeltro. Non so il numero, non lo ricordi. Lo vogliamo. Ecco, quattro, grazie Paolo. Numero quattro. Allora, al momento... Ti sei salvato solo una domanda per domanda. Tagliamo la prima. Allora, in realtà, quante persone ho tu nella nuova sede in Italia? Allora, al momento quattro. Cioè, il direttore che aprirà l'ufficio, che è Miriam, probabilmente l'avrete già vista sui social, l'HR, che comincerà a reclutare la prima parte di sales, che faranno parte del primo organico, e l'head of service, che è colui che farà onboarding ai nuovi consulenti. Quindi, intanto arriveranno le prime tre persone che costituiranno il team. Si prevede, si spera, entro fine 2023, di essere circa una quindicina di persone. Quindi, ecco, queste sono le informazioni che ancora abbiamo, perché è tutto in evoluzione. Ancora la sede deve essere già stata firmata, abbiamo tutto, però devono ancora trasferirsi. Dove l'abbiamo risposto? Quanto ritiene Odù, casa madre, complicato affrontare, diciamo, il mercato italiano? Il mercato italiano è un mercato non semplice, sia per via, diciamo, delle abitudini che abbiamo acquisito nel corso degli anni, perché dagli anni 80 fino ad oggi, insomma, con la varietà di sistemi gestionali, qualche carrellato l'ho messo prima, anche se si sono già sovrapposto. Però abbiamo una cultura gestionale un po' particolare, poi anche per le normative e per alcune necessità che sono differenti rispetto al resto del mondo. Allora, come vediamo questo, la posso rispondere in un modo. Sicuramente, già per il solo fatto di essere considerato appunto un mercato prioritario, per Odù è una sfida. Sappiamo le complessità che porta il mercato italiano, un po' per la sua natura, anche per la composizione aziendale. L'obiettivo è sempre quello, cercare di trovare un punto d'incontro tra quelle che sono le abitudini delle aziende nell'utilizzare alcuni software, alcune pratiche che fanno parte un po' del modo comune di utilizzare le cose e cercare di spostarsi il più possibile verso quello che noi riteniamo una visione più efficiente, chiaramente. Quindi quella educazione all'ICT in cui noi crediamo e in cui voi e i partner ci supportano veramente da ormai da anni che ci conosciamo, quella è una sfida per noi. Nel senso, cambiare la modalità di pensare. Fatto sta che vogliamo senza dubbiare le regole del gioco, nel senso che quando si entra in un mercato nuovo si entra per capirlo meglio e per avvicinarsi anche a quella che è la normativa, capirla e cercare di applicare il più possibile senza mettere in difficoltà nessuno. Diciamo che dovete essere pronti a far uscire fuori dalla zona di comfort alcune... Sì, una sfida, ma è quello che facciamo... Sì, esatto, spesso, sì. Allora, avete valutato di ridurre la frequenza di versioni, questa domanda mi piace, anche perché noi abbiamo scelto strategicamente di saltare le versioni dispari, per un motivo saggio, perché altrimenti ogni anno stiamo lì a scrivere codice. Ci voleva far bene a rispondere. Tutti? Tutti, ok. Allora, c'è la risposta a Fabienne che è no, e la risposta mia che al momento non se n'è mai parlato, quindi onestamente vi direi una bugia dicendo ah potrebbe essere in futuro, al momento questa cosa non è prevista. in questo la direzione come direzione di visione, non direzione, perché con Fabienne lo vediamo praticamente passare e spassare ogni giorno. non c'è questa intenzione, ma perché vuole realmente, o meno la visione, la spiegazione dietro è che crediamo realmente che ogni versione, sebbene sia complesso mantenere una versione l'anno, è un modo anche internamente per rimanere sempre al passo con le novità, gli upgrade, gli aggiornamenti, senza stagnarsi. Chiaramente sappiamo i pro e contro di questo, è una scelta veramente di modello di business, di visione. Allora, altre due domande poi chiudiamo. Odo Italia anche per il Ticino, immagino diciamo come raggio d'azione copre anche il Ticino? Allora, onestamente non so rispondere a questa domanda. Non so specificamente anche le differenze che ci siano magari a livello territoriale. e suppongo che inizialmente, quando parliamo di Italia, parliamo proprio Italia, e per quanto riguarda la Svizzera, sicuramente un supporto ancora più importante, se magari alcuni aspetti non sono prioritari in questo momento per Odo, verranno colmati dai partner in zona o dalle conoscenze locali, perché magari è un mercato anche diverso da quello italiano. Quindi al momento credo che non sia direttamente collegato. Leggiamo l'ultima domanda, poi il resto come di Consiglio. Sì, esatto, tanto saremo qua. Quanto peserà, in termini di tempo e obiettivi della sede in Italia, il supporto ai partner rispetto al direct sale? Quanto peserà il supporto ai partner? Nel senso quanto tempo ci prenderà? Immagino strategicamente tu apri una sede in Italia per cui hai, come dice, in proporzione, cioè hai chiaramente il canale direct e poi hai il canale dei partner. Allora, sì, chiaro. Allora, intanto premesso, questi sono proprio dati interni, ma nel senso, condivisibilissimi. Questo spesso fa bien, ma anche in Odu lo condividiamo sempre, questo aspetto. In Odu il 75% di quelle che sono vere e proprie revenue, quindi progetti, comunque deriva dall'ambito partner. Quindi indirect, quello che è l'ambito di vendita indiretta, è l'ambito più corposo. 75%, quindi 75% arriva da lì. Quindi comunque un'attenzione particolare l'abbiamo sempre posta sui partner, tant'è vero che, come diceva Alessia, la partnership non è soltanto un contratto, è realmente un supporto con una persona dedicata, vicino ai partner, che li segue, con tutti i pro e contro che ci sono problemi di comunicazione, sfide e quant'altro. Quindi siamo veramente vicini informazione, tecnico, cerchiamo di dare più informazioni possibili. L'ambito direct sale, che storicamente ha una ragione di esistere, magari poi ne parleremo successivamente, è una parte importante di Odu perché nella nostra visione è importante avere anche direttamente, non delegare tutto costantemente, ma avere anche noi un rapporto diretto con quella che è l'Italia in termini aziendali. Quindi abbiamo sempre un confronto diretto, non soltanto da quello che è il nostro confronto con i partner, ma anche dalle aziende piccole, perché normalmente sono più piccole rispetto a quelle che gestiscono i partner, o comunque un mercato diverso, ma che ci dà il confronto diretto con un mercato. Quindi quella è una parte importante, ma in proporzione in questo momento la maggioranza viene dai partner. Grazie Marco, grazie Alessia. È stato un piacere avervi qui agli Odu d'Italia. Grazie, così li potete appoggiare sul tavolo. Odu Italia, a fianco delle imprese italiane.